Novità in arrivo per i parcheggi a pagamento gestiti dalla Easy Help a Teramo. Niente più multa a ticket scaduto, ma verrà lasciato un avviso di cortesia e l'automobilista avrà tempo fino a mezzanotte per saldare l'importo dovuto. Stiamo verificando questo processo con la Prefettura. Ieri c'è stato già un primo incontro, ci sembra che ci siano tutte le condizioni, quindi nei prossimi giorni potremo procedere se tutto viene confermato. Aumenteranno le strisce blu con l'apertura del sito di Campo Boario, dove verranno inizialmente realizzati 40 parcheggi. Novità anche per i parcheggi di Madonna delle Grazie, Via Le Madre Teresa di Calcutta, Corso Porta Romana, Via Riccitelli e Via Beccaria, per i quali sarà possibile sottoscrivere un abbonamento da 80 euro per utilizzare tutti gli stalli presenti in queste zone. Previsto anche un abbonamento a 50 euro al mese su tutte le strisce blu per i residenti pendolari che potranno usufruire dei parcheggi dalle 18 alle 9 del giorno successivo. Per i 100 posti al parcheggio della stazione ci sarà un abbonamento mensile ridotto di 20 euro e per i disabili che troveranno il parcheggio riservato occupato sarà possibile parcheggiare gratuitamente su tutti gli stalli blu presenti in città. Avete detto che i parcometri verranno sostituiti entro l'anno. Abbiamo quasi concluso questo itere e quindi il parcometro che adesso è installato è stato un parcometro momentaneo per poter far fronte all'inizio della commessa ovviamente non potendo prevedere preventivamente queste difficoltà però entro fine anno saneremo questa situazione. L'amministrazione comunale ha fatto effettuare uno studio per il piano urbano della mobilità sostenibile dal quale è emerso che Teramo ha il tasso più alto in Abruzzo per veicoli di proprietà. Da questo si genera una grande necessità della sosta ma finalmente dotarsi di uno strumento come il piano urbano della mobilità sostenibile ci dà la possibilità di dare una risposta a tutte quelle domande lecite e legittime che i cittadini oggi hanno, compresi i residenti e i commercianti.